Abbiamo deciso, come avete visto già da qualche giorno, di rinnovare completamente il nostro logo, il nostro marchio, in questa operazione che si chiama appunto rebranding perché permette di dare una luce nuova insomma alla nostra struttura e alla nostra azienda. Perché in questo momento? Perché il marchio è uno strumento fondamentale e quindi deve essere sempre più al passo con i tempi, innovativo e andare verso la digitalizzazione. Questo nuovo marchio è stato fatto appunto in modo semplice, lineare ed efficace e facilmente adattabile a tutti gli strumenti di comunicazione che Rossini TV propone. Ci siamo avalsi chiaramente della collaborazione di un nostro consulente, un ragazzo, un professionista in questo perché non bisogna improvvisarsi, un professionista che ha studiato i tratti salienti della nostra filosofia, la nostra mission, la nostra vision e attraverso queste indicazioni ha creato l'immagine appunto del nuovo logo di Rossini TV. Vedete i colori, i colori della terra, i colori del mare, vedete che comunque ci sono ancora dei tratti che richiamano la palla di pomodoro perché come sapete Rossini TV è l'unica tv con sede a Pesaro, quindi queste connotazioni prettamente territoriali. La sfida è stata quella innanzitutto di trovare una sintesi visiva che allo stesso tempo avesse una continuità rispetto al logo precedente con quella nuova e con comunque l'obiettivo che Rossini TV si era prefissato di raggiungere, ovvero quello di innovarsi ed essere al passo con i tempi. In questo caso è stata appunto creata una sintesi visiva dove si univano diversi elementi mantenendo comunque sempre una certa linearità e semplicità nel recepire il marchio. Abbiamo introdotto un cerchio in cui è stato iscritto l'iniziale di Rossini, la lettera R, ma allo stesso tempo questa lettera voleva anche connotare un po' il territorio, ovvero il monte e il parco San Bartolo e il mare e la spiaggia e il litorale che poi fa parte di Pesaro. I colori sono stati comunque rinnovati, sono più attenenti al mondo digitale, hanno un colore molto più acceso rispetto al verde precedente, e sono stati eliminati diversi elementi cercando appunto di andare incontro a questa semplicità di lettura del logo. In realtà è stato un logo abbastanza semplice ma allo stesso tempo doveva essere comunque riconducibile a quello precedente, quindi non è stato stravolto a livello semantico ma più a livello di forma e di visivo. Un appello è anche quello che voglio fare a tutte le aziende, sia i nostri partner ma anche quelle che lo saranno in futuro, di stare sempre attenti al passo con i tempi che cambiano, quindi la propria immagine deve essere sempre curata ed efficace e seguire le nuove tecnologie. Rossini TV nel suo team, nel suo staff, ha delle persone competenti che possono lavorare costantemente, lavorano sulla comunicazione delle aziende e chiaramente dei loro marchi e loghi.